Siamo sempre in viaggio, ogni giorno, qualche volta per lavoro, qualche volta per sorridere, qualche volta da soli, qualche volta in compagnia. E sempre abbiamo bisogno del nostro Pocket Coffee a portata di mano. La carica del vero caffè e il piacere del cioccolato. Pocket Coffee, il tuo compagno di viaggio.